Eccoci con Luigi Muro, presidente del Procida Calcio. Presidente, prima di soffermarci sulla partita, partiamo dalle sue dimissioni. Questa oggi è stata la sua ultima partita con un post su Facebook che ha dichiarato che lascerà il Procida, benché continuerà comunque a restare nell'ambiente. Come mai questa decisione? Non sono dimissioni. Credo che dopo un percorso di circa 15 anni, nel quale abbiamo fatto tante cose, è anche giusto dare l'opportunità ad altri amici che vogliono rivestire questo ruolo importante per una nostra realtà. Quindi finalmente dopo qualche anno che io già pensavo di nutrire di più un progetto, un progetto non si deve mai identificare con una persona. E quindi dopo 15 anni credo di lasciare volentieri il posto di presidente al dottor Cesarano che nei prossimi giorni faremo un'assemblea dei soci. Quindi non sono dimissioni dettate da chi sa che rimarrò nel calcio, al fianco al Procida, anzi probabilmente potrò aiutarlo di più e più forte. Io nella mia vita sono sempre stato più bravo a chiedere per gli altri che per me, quindi probabilmente sarò ancora di più impegnato a dare una mano al Procida. Il problema a campo c'è. Speriamo nei prossimi giorni con alcuni interventi di poter tamponare l'attuale. Speriamo che l'amministrazione risolva presto i problemi della gara e dell'affidamento dei lavori. Credo che l'ingresso di Attilio, che comunque già da qualche anno stava a fianco a noi, porterà linfa vitale per il progetto perché a fianco agli impegni che noi continueremo a approfondire per il progetto ci sarà nuova linfa. Non c'è fretta, l'ossatura della squadra è ottima. Io credo che con qualche innesto, ma queste sono scelte tecniche e societarie, a quale ovviamente si vedrà nei prossimi tempi, si possa addirittura migliorare. Però io credo che la squadra che consegniamo oggi allo sport campano, una squadra solida, che ha fatto molto bene l'anno scorso, credo anche oggi abbia giocato abbastanza bene. Presidente, per quanto riguarda la partita di oggi, l'ischia si imposta 2-1 contro il Procida, una gara non ricchissima di emozioni, però comunque al ritorno allo Spinetti basterà l'1-0. La qualificazione è apertissima. Sì, non poteva essere diversamente. Il Procida ha iniziato sempre per i problemi del campo in ritardo, la preparazione, soprattutto non ha fatto manco un amichevole. Questa era la prima uscita a 11, quindi sono molto contento della prestazione dei nostri. Poi riuscire a segnare un gol in trasferta è importante. Stavamo quasi pareggiando al novantesimo e quindi sarebbe stato bello, ma il 2-1 è il risultato che comunque ci consente di fare un ritorno con qualche speranza. L'ischia ha segnato su due momenti di distrazione della difesa, ma ci sta, perché dopo tanto tempo, senza amichevole, i reparti debbano collaudarsi ancora.